ciao ragazzi sono veronica dell'associazione teatrulla e oggi con storie cucite a mano vi voglio proporre una sfida a nome di tutte le compagnie teatrali che hanno giocato con voi fino a quando le scuole si sono chiuse ed è iniziato questo stranissimo periodo di vita casalinga durante quest'anno vi sarà capitato di assistere a spettacoli teatrali o partecipare a laboratori e spesso vi abbiamo chiesto di regalarci le vostre riflessioni le vostre parole se invece non ci siamo ancora conosciuti è un ottimo momento per farlo poiché oggigiorno è impossibile incontrarsi su un palcoscenico o in una classe per giocare insieme al teatro vi chiediamo comunque di aiutarci in un modo un po particolare perché diciamolo ragazzi ci manca la vostra creatività abbiamo quindi chiesto aiuto a due amiche illustratrici pugliesi paola rollo e patrizia mastrapasqua ci hanno prestato le loro illustrazioni e qui inizia la sfida vi chiediamo di trovare per ogni disegno il titolo che secondo voi è più adatto insomma quello che ci sta meglio il gioco è molto semplice quando compariranno le immagini mettete il video in pausa osservatele bene scegliete un titolo e inseritelo nei commenti sulla pagina facebook di storie cucite a mano oppure fatecelo avere attraverso le vostre insegnanti ricordate di indicare il numero dell'immagine e dopo il vostro titolo siete pronti si parte grazie a tutti grazie a tutti